Mi sono commossa, è stato bello sentire mio padre ricordato qui alla Camera dei Deputati e nel Tempio della legge, nel Tempio delle istituzioni e sicuramente di essere arrestato felice. E poi sentirlo ricordato da tutti, quindi dai giovani che hanno letto i suoi discorsi alle persone, al Comandante Generale, a Isabella Rauti, a persone che ne hanno parlato con un affetto immenso, con stima immensa, un rispetto e mi è piaciuto che sia detto l'operazione dalla Chiesa non è mai finita, non finirà mai. Mio padre volava alto, volava sopra, quindi è per quello che non è mai stato estremamente divisivo, divisivo in alcuni periodi della sua vita lo può essere stato, ma per altri motivi politici può succedere questo, però soprattutto durante il terrorismo, durante la lotta alle brigarie rosse e per la lotta alla mafia. E soprattutto è il cuore di tutti i suoi carabinieri.